Il parcheggio San Decenzio, utilizzato per la maggior parte dai frequentatori del mercato, dai lavoratori per raggiungere il centro storico e da chi si reca al cimitero, si allarga di altri 104 posti auto, di cui 5 per persone disabili. L'area utilizzata per questo intervento condotto dal Comune di Pesaro riguarda lo spazio a fianco del cimitero, che permetterà a tutti gli usufruitori di parcheggiare gratuitamente. Un'operazione che però non può dirsi conclusa, visto che l'intenzione dell'amministrazione è quella di portare il nuovo parcheggio a 250 posti autocomplessivi nei primi mesi del 2023, regalando così alla città e ai suoi abitanti il terzo grande parcheggio gratuito nel giro di sette mesi. È un parcheggio per il mercato importante, è un parcheggio per il cimitero, ed è un parcheggio che va a rafforzare ulteriormente la politica di sosta della città, con parcheggi scambiatori gratuiti a pochi minuti a piedi dal centro. Questo è con il San Decenzio, quello del Cavalca Ferrovia, due in verità lì sono i parcheggi, quello che metteremo a posto, che è già utilizzato, ma che metteremo a posto dietro la caserma militare in via dell'Acquedotto, e quello che abbiamo realizzato in fondo Viale Trieste. Ci sono tutti i parcheggi scambiatori gratuiti per la sosta lunga a pochi metri dal mare e dal centro. Un'operazione complicata anche dal punto di vista burocratico, quella condotta in questi mesi per poterla portare a termine. Qui è stata spostata un'attività con inerti, materiale edile, che non era adeguata a stare in questo luogo per la polvere che creava, piuttosto che altro, in una trattativa importante con Prioli, e con la realizzazione di una nuova attività, che oggi è diventata Technovood, lungo gli interquartieri. Un'attività che è accettato di essere un punto anche del nostro percorso di street art, e quindi non solo è una bella attività che lavora tanto, ma anche è un'attività bella grazie all'aver accolto un artista che ha dipinto le pareti, rendendola anche molto bella come biglietto da visita all'ingresso della nostra città. San Decenza è un parcheggio che quando è stato inaugurato era un parcheggio che dava risposte a poche decine di auto e che oggi invece diventa un parcheggio fondamentale per tutti coloro che vanno in centro, che lavorano in centro. Ed è un parcheggio a disposizione anche di rafforza, consente la sosta anche nei giorni del mercato cittadino, quindi importante nelle giornate del martedì, oltre che ovviamente per tutti coloro che vengono a trovare i propri cari al cimitero. Lo facciamo a ridosso delle festività dei Santi e dei Morti. È un parcheggio la cui storia parte molto da lontano e che oggi ha avuto un'accelerazione da febbraio grazie anche alla disponibilità e alla collaborazione di tanti soggetti che si sono impegnati a rispettare un impegno preso con l'amministrazione e che vedeva la realizzazione di questo parcheggio per 700.000 euro di lavoro in cambio di un'area del comune. Quindi i ringraziamenti vanno assolutamente fatti alla FME, ai titolari dell'area, alla Technovul, a Marche Multiservizi, ad Aspes, anche a Fiorai stessi, e tutti coloro che in qualche modo hanno collaborato per oggi aprire questo parcheggio importante per la città. Soddisfatto dell'allargamento del parcheggio di San Decenzio anche il responsabile del mercato di Pesaro Valerio Tamburini che vede concretizzarsi una richiesta da lui inoltrata da oltre 12 anni. La gente il martedì non sa mai dove mettere la macchina e questi 109 posti daranno una grande soddisfazione soprattutto alla gente di Pesaro.